Anche i sindaci di centro-sinistra dell'Aretino lanciano l'appello affinché Draghi resti al suo posto. Il presidente Mario Draghi ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro paese nel consesso internazionale. Si legge nella lettera, ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città, perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l'Italia. Fronte comune dunque con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che ore prima, ma dal versante di centro-destra, aveva espresso la stessa posizione, suscitando le ire di Fratelli d'Italia, che avevano invece espresso dissenso. Ad Arezzo la forza politica sostiene la maggioranza, mentre a livello nazionale è fuori dal governo e chiede con forza da giorni immediate elezioni politiche. Nella giornata di ieri il sindaco di Arezzo era tornato sull'argomento ribadendo la propria posizione. «Devo rispondere a quattro forze di centro-destra, non solo a Fratelli d'Italia», aveva detto Ghinelli ai microfoni di Radio 24. Nelle scorse ore, nell'Arettino, anche Italia Viva ha espresso sostegno al presidente del Consiglio e sostenuto la petizione lanciata a livello nazionale da poter firmare online. Sono già state superate le 100 mira firme. «Gatelli»